arriviamo a parlare dei verbi irregolari ma veramente irregolari quelli che per intenderci bisogna studiare a memoria e non ci sono molti trucchi che tengano allora sono tre sono solo tre il verbo essere fui fosti fu fumo foste furono il verbo stare stetti stesti stette stemmo steste stettero e il verbo dare diedi desti diede demmo deste diedero il verbo essere è completamente irregolare e non c'è trucco che tenga ok abbiamo la u che si alterna alla o e la la struttura diciamo non è non è la stessa degli altri verbi le terminazioni a parte la prima la terza singolare la terza plurale sono simili alle altre abbiamo sempre sti mo e ste ok ma a parte questo il resto bisogna studiarsela memoria per quanto riguarda il verbo stare e il verbo dare invece vediamo una cosa se noi confrontiamo per esempio il verbo stare con il verbo semi irregolare scrivere vediamo che è vero che le parti che erano regolari nel nei verbi semi irregolari come scrivere cioè scrivesti scrivemmo scriveste continuano avere una radice irregolare qua ste no stesti stemmo steste ma le terminazioni sono uguali e in qualche modo si mantiene la stessa la stessa struttura quindi ste 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 mo steste ok e la prima persona se noi prendiamo la prima persona singolare la terza persona singolare e la terza plurale vediamo che anche qui per quanto riguarda le terminazioni si mantengono quindi in realtà per questi due verbi possiamo imparare le prime due persone e poi derivare il resto e torniamo un attimo indietro vediamo anche dare succede la stessa cosa di e di di e de di e vero e poi desti non d'asti sarebbe brutto desti de modeste ok e quindi ricordare di e di desti ci può in qualche modo aiutare a riportare alla memoria il resto delle persone e quindi sono